3 1 numero 3 i nostri pocom non sono mezzi distrutti ok e battiamo gli ultimi per gli ultimi due allenatori non so come ammazzare questo capo di sablie ok e pugnospine sull'urason e palla ombra su sablie vedi io vivo pure allora solo rock perché mi ammazza ora catturino pugnospine e te e pop ma mazzi quando vuoi fare la palla ombra sapevo sa ne sei per niente no ti senti lui mi dovrebbe fare vabbè e abso ciao ciao wow favoloso ok finisce l'effetto del repellente 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 altra allenatrice tanto per cambiare tanto per cambiare ma con il fuoco ferro scudo ci servirà quanto si mi sa niente olè 50 ludicolo altaria quasi 49 ok 49 diciamo diciamo lasciamo ecco io lo volevo nella mia squadra però non si trova forse ve l'ho già detto un bel po' di bordo non mi voglio lasciare ancora basta non lo dico più lo dico no non posso stare zitti e non... annoieresti ammettetelo ok dovremmo essere quasi non quasi arrivati se non sbaglio lì c'è una cascata e lì c'è un altro no no bella sa che dobbiamo andare di qua si perchè se la risposta deve essere fin ok ok lì e che non mi faceva e oh ci siamo fatta ma 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 capito con te per tutto il votare i dettagli potremmo fallire 50 per altare non c'è qualcuno per tuttora chi ha fatto guarda slasso salò non è quello che c'è problematiche benedus la fine che fortuna grazie ecco l'unico rimasto indietro mi serviva surf e una scelta vi ammazzate di presto non so cosa mi stanno ammazzando tutti perché quelli di maggio di maggio non ci piacciono non so bene sai due scolpes ok dragospiro colpe di fango tossina tanto per cambiare ma si ma i per avveleniamo i pokémon di nard così tanto per cambiare ok arrivati in fondo alla via vittoria e arrivati alla lega pokémon accogliamoci pokémon tra santa pace e riprendiamo il nostro caro vecchio amico posta capito allora ora abbiamo capito allora pokémon vediamo un po' quello un po' più indietro sono guarda i guardi e camera per il resto però sono tutti all'avanguardia allora volevo andare prima pokémon pokémon vola apportare il gap perché volevo far scordare spaccaroccia ora si per 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 se per 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 Vabbè, oh, io, io, sempre in fondo, sai? Qua, Plunifoglia La donnina che scambiava le squadre Eh, cosa non mi ha mosso, perfetto Sì Allora, guardiamo Che mosse hanno No Sì Cacturn No Guardiamoli tutti almeno Si guarda un po' Mampert no, Camerut e poi Altaria Cazione, riduttore, amnesia No, sì Gara No, non mi interessa Allora, andiamo a vedere anche qua Sì, abbiamo completato il Ok Allora, andiamo, io, attacco Ah, ci fa lì, fa Idropulsor Ah, si metterà il Geloraggio Terremoto 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 Di raccontare Uh, Flygon Siamo, vabbè, tontro, vabbè, da solo Allora, assalto Solo Altaria Però li ho potete togliere qua Acciaio Vampasa Baratto Idropulsor Solo Sì Carmamente Mi interessa Simetralia Fa Sifo Geloraggio Solo No, anche Altaria Eh, quasi quasi volevo togliere il sub Sub Se li tolgo sub Sì No Sub Sub Fuggere il raggio E terremoto Ok Allora, lì insegnaci il raggio Sì Sì, 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 sì E lì si leva a riduttore Cambio fa schifo riduttore Terremoto E si insegna Anche se poi c'è un'altra persona che si fa terremoto A flygon terremoto E Eh, all'assalto Sì, all'assalto Ad altaria Al posto di riduttore Perfetto Basta Ora Quindi attiva Quanto per cambiare Allora Pokémon Ehm Volo Droppoli Lega Poco Ricordiamo il Pokémon Anche se non l'abbiamo usati E nella prossima parte Faremo la Lega Pokémon Ciao Ciao Grazie a tutti.